ecco qua aspettiamo ciao lucrezia la prima che ho visto marta buongiorno buongiorno a tutte bimbe come state aspettiamo un pochino così si collega un po di un po di gente intanto ditemi qualcosa cosa state facendo alzo un pochino la musica buongiorno a tutti ci prepariamo eh aspettiamo due o tre minutini eh e poi si parte stamattina facciamo gag gambe addominali glutei sul tappetino non sarà cardio quindi l'intensità sarà bassa sarà una mezz'ora solo di gambe addominali e glutei sul tappetino buongiorno a tutti aspettiamo un pochino ancora che state arrivando piano piano intanto ditemi se mi si sente se mi si vede bene come state ditemi qualcosa mentre aspettiamo adesso ci alleniamo insieme vediamo un po' se si vede anche il tappetino perfetto Silvia buongiorno buongiorno a tutti allora inizio a spiegare un pochino quello che andremo a fare è una mezz'ora di gambe addominali e glutei sul tappetino per cui l'intensità sarà bassa Marta mi fanno ancora male le gambe mi fanno ancora male le gambe da cardio gag molto bene vuol dire che è stato allenante ma stamattina sarà una cosa molto più statica molto più tranquilla quindi insomma lo può fare tranquillamente si strutturerà così la lezione durerà mezz'ora ciao tesoro ciao Silvia si durerà mezz'ora dicevo e divideremo la lezione in quattro fasi la prima fase faremo addominali la seconda fase faremo gambe e glutei la terza fase di nuovo addominali e poi di nuovo gambe e glutei il tutto in mezz'ora quindi agili agili buongiorno Adelaide sarà una cosa molto tranquilla come direbbe il mio collega Filippo in scioltezza un allenamento onesto bene aspettiamo un paio di minutini sono le 11 e 2 aspettiamo gli ultimi ritardatari che arriva che si scarapolla dal letto appena sveglio non c'è più orari in effetti ora c'è come dicevo l'altro giorno esiste il di giorno e il di notte non c'è più mattina, giorno, pomeriggio, sera il di giorno e il di notte allora intanto mi dite un pochino della musica l'alzo un pochettino allora ditemi se la sentite la musica non alzerai tantissimo è perché tanto appunto è una lezione abbastanza tranquilla per cui non importa pompare e poi mi cacciano diciamo arrivano vicini mi chiedono una secchiata d'acqua hanno ragione dimmi se sentite la musica così poi possiamo partire allora l'occorrente intanto è un tappetino e una bottiglia d'acqua per bere basta non serve niente buongiorno buongiorno appena mi dite della musica si parte se la sentite o se è troppo alta o se è troppo bassa ditemi voi so che a me i commenti mi arrivano un pochino in ritardo rispetto alla vostra digitazione per cui aspetto un attimo appena a me appare qualcosa musica ok dice la Silvia perfetto si parte allora allora sdraiati vi appoggia su sul tappetino ok le si parte dall'addome ragazzi pancia su appoggia bene i piedi appoggia bene la parte bassa della schiena mani dietro la testa crunch verso l'alto ognuno del proprio ritmo ok ancora vai respira eh quando vieni su ok ok chiudi le gambe la sinistra sopra la voglio continua a venire qui ancora quattro 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 tre due da qua fuori il braccio sinistro e si va in torsione con il gomito destro verso il ginocchio sinistro via ancora dai 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 ancora otto sette sei cinque quattro tre due da qua tutte e due le mani dietro la testa stendi la gamba sempre la sinistra avvicino allontano sempre in torsione ancora 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 ultimi otto quattro cambio sempre la sinistra sopra uguale a prima solleva la destra ok da qua si viene su verso l'alto su ancora ancora otto otto sette quattro rimani su con le spalle gambe su sportisciate destra sinistra dentro la pancia fuori l'aria otto sette quattro recupera al petto come state? buongiorno te te la simone saida buongiorno allora ginocchia al petto allunghiamo un attimino la schiena recuperiamo un attimo e ci si prepara per farlo dall'altra parte mi giro così rimango sempre girata verso di voi ok? voi state pure dove siete allora appoggia i piedi schiaccio bene la parte bassa della schiena mani dietro la testa e su si riparte crunch su cambio destra sopra questa volta e andiamo di nuovo su sette sei quattro da qua fuori il braccio destro torsione ancora otto quattro tutte e due le mani dietro la testa sulle gambe da qua torsione e la gamba destra avvicino allontano ancora otto sette quattro cambio giù la destra di nuovo sopra stendi la gamba sinistra e andiamo su ancora su quattro tre due tutte e due le gambe su sulle spalle e forbicia destra sinistra ancora vai che ho su gli ultimi su 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 dai ultimissimi vai quattro tre due ginocchia al petto recupera su 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 le gambe mani dietro la testa e da qua su in crancio vai adesso comincio a staccare un pochino anche il sedere su 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 un pochino un pochino un pochino un pochino otto aggiungo le gambe dai destra e si porta giù la gamba opposta si va verso quella che rimane su ok otto quattro e giù tira ok ci si mette in quadrupedia e si parte con i glutei ok allora in appoggio sui gomiti si parte dalla gamba sinistra ok su 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 allora piede a martello ok non così ma a martello e spingo bene dal tallone ancora ancora quattro dentro la pancia tieni la schiena ferma sprizza bene il gluteo mi fai tre molleci uno uno due tre uno due tre ancora 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 gli ultimi forza l'ultimo di nuovo singolo stendi la gamba su abbasso e alzo via ancora ancora quattro tre due due al prossimo incrocio incrocio e su incrocio e su ancora 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 quattro quattro tre due due rimani su piego la gamba piccolo su 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 stringi gluteo sinistro forza ciao Emma bellina andiamo ancora dai 8 7 6 4 3 2 e giù allunga emma ti fa fare il plank rimani qui eh in giro dall'altra parte così uso la gamba che vedete voi rimanete pure dove siete in appoggio sui gomiti e si parte con la gamba destra quindi si fa su e torno su e torno stringi bene il gluteo destro il piede destro a martello la spinta è dal tallone ok tieni la schiena ferma ancora dai 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 su ne manca 4 2 allora adesso facciamo i tre molleggi 1 2 3 e giù ancora 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 tieni la schiena più ferma possibile strizza bene il gluteo ancora forza dai 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 e giù dai 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 e giù ultimi l'ultimo cambio stendi la gamba di nuovo singolo sollevo e abbasso stringi il gluteo dai su ancora 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 su 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 sono gli ultimi 4 2 da qua la incrocio forza incrocio via 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 forza 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 Ultimi otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, rimani su, piega la gamba, piccolini, vai, vai, ancora, ancora, forza, stringi bene il gluteo, andiamo. Sono gli ultimi, dai, dai, resisti, resisti, otto, otto, sette, sei, quattro, e giù, allungate bene, ok, come state? Roscicchiano, eh? Allora, mettiamoci, sempre in quadrupedia, restate pure come siete, io mi metto in questo modo, così forse riuscite a vedermi meglio, eh? Allora, la gamba sinistra, laterale, su, 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 il piede, il ginocchio, sulla stessa linea, ok, sullo stesso piano, quindi non è questo, eh? E' lo stesso piano, piede e ginocchio, ancora, vai, su, questo, ora staccate il braccio destro, vai, lo appoggiate qui sulla coscia, dentro l'ombelico gli addominali belli contratti, eh? Su, su, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, ultimi, appoggia tutte e due le mani e fai, piego, stendo, vai, vai, piede alto, su, Forza, otto, sette, sei, buongiorno Ilenia, ultimi, ne manca due, uno e recupera Allora, dall'altra parte, gamba destra, su, 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 bello alto, vedi, ginocchio e piede sono sullo stesso piano, ok, vai Appoggia bene, appoggia bene tutte e due le mani, per ora, ancora, otto, sette, sei, dentro la pancia, non vi sbraiate, ok? Cercate di stare perpendicolare con il bacino sopra il ginocchio Adesso, stacchi la mano sinistra, ok? E l'appoggi sulla coscia, qua, oppure qua, come volete voi Dentro l'ombelico attiva gli addominali Otto, sette, sei, quattro Appoggia tutte e due le mani, rimani su, stendi, piega Stendi, piega Forza Brucia Otto Sette Sei Cinque Quattro Ultimo Giù Oddio Mi si strappano Come state voi? Bruciano, eh? Allungate bene, bene, bene Dai Allora Si riparte con l'addome Precisamente in plank Ok? Gomiti in appoggio Avanti ed in appoggio Su Tenete gli addominali belli contratti L'ombelico dentro, ok? Ancora Ultimi Da qua Oscilla Destra Sinistra Avvicino un fianco alla volta A terra Ancora Gnocca Gnocca Ultimi Recupera Come state? Come state? Allora In appoggio sulle mani Sempre in plank Ok ragazzi? Qua Le mani Sono Sotto le spalle Ok? Perpendicolari Dentro l'ombelico Resisti Stai lì Da qua Un ginocchio alla volta Avanti Lo resenti Al tappetino Ok? Struscialo sul tappetino Via Via Ancora Rimanete giù col sedere Eh ragazzi? Vai Ancora Ultimi Recupera Ok Adesso facciamo Una variazione Di questo Ok? Recuperiamo un attimo Guardami Mentre recuperi Allora Uguale a prima Però Quando stacchi Il ginocchio sinistro Lo tocchi con la mano destra E viceversa In questo modo qua Uno Uno Andiamo Pronti? Via Dai 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 Giù il sedere Ancora 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 quattro Aiuto Testo Vai Recupera Come state? Uh Costi eh? Ciao Bea Ciao Giulia Angela Ma si può stare sui gomiti Se fanno male i polsi? Assolutamente sì 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 Silvia puoi Se da noi hai polsi Potete appoggiarvi sui gomiti Eh? Non è un problema Allora Adesso ci riappoggiamo Sui gomiti Quindi Apposto Tieni bene Da qua Guarda eh Laterali Una gamba E poi l'altra La apri Abduzioni Quattro Recupera Come state? Versione catorcio No 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 Tranquilla È normale Soprattutto le prime volte Che dia un pochino fastidio ai polsi Ma poi a forza di farli Ci si prende tranquillamente la forza E non fanno più male Ciao Alessandra Buongiorno Allora ragazzi Ci si rimette a pancia in su Ok Divaricate bene i piedi Mani dietro la testa Spiaccia bene la schiena Solleva le spalle Fai lateralmente A toccare Un piede alla volta Flettendo il busto lateralmente Andiamo Lascia le mani dietro la testa Fletti soltanto il busto Avvicino il gomito Verso la parte laterale della coscia Dai Ancora Quattro Adesso Aggiungiamo Le ginocchia Fletti il busto Ancora Quattro Tre Due Cambio Allora Fuori le braccia laterali Lungo i fianchi Cambio a seggiolina Laterali Destra Sinistra Cercate di non staccare le spalle Ok Il meno possibile Se ce la fate Adesso Stendete le gambe Ok Questo Forza Dentro la pancia Dentro la pancia Ancora Ultimi Ok Resta Ultimo minuto L'ultimo minuto Ma verso l'alto Ultimi Quattro Tre Due L'ultimo Recupera Recupera Rilasso Rilasso Via Via Ancora Su 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 Ancora Forza Stringi bene Buongiorno Federica Buongiorno Rachele Ciao Edoardo Su Stringi fortissimo Rimani su Sinistra Sopra Continua Stringi forte il gluteo Destro Su Ancora Otto Sette Su Stringi forte il gluteo Destro Quattro Tre Due Rimani su Sempre la gamba sinistra La stendi Su di nuovo Su Ancora Finita la musica Continuate Ancora Forza Forza Ancora Quattro Tre Due Appoggia tutti e due Divarica E di nuovo Stringi Stringi Ancora Via Quattro Quattro Otto Sette Sette Cinque Quattro Tre Due Giù Ginocchia al petto Appoggia Chiudi i piedi E le ginocchia E le ginocchia Sollevo su Questa volta la destra sopra Andiamo Stringi 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 forte il gluteo sinistro adesso Andiamo Su Ancora Ancora Otto Sette Seine Quattro Tre Due Sempre la gamba Sempre la gamba destra La stendi su Continua Ancora Dai Forza Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Cambio Apri Di nuovo su Stringi tutte e due glutei Stringi Ancora Dai Stringi bene Ancora Gli ultimi quattro Forza Quattro Tre Rilassa Due Adesso rimani su Solo piccoli Stringi Rilassa Stringi Rilassa Stringi Rilassa Stringi Rilassa Stringi Rilassa Dai 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 Stringi Rilassa Stringi Rilassa Dai Dai Ultimi Forza che ci siamo Su Ancora Resisti Ancora Stringi Rilassa Stringi Rilassa Stringi Rilassa Dai Come state? Ultimi Ultimi Secondi Quattro Tre Due Giù Ginocchi Al petto Ultimo Minuto Ci mettiamo Di nuovo Quadrupedia Sinistra Fuori Da qua Su Su Ancora Ultimi Ultimi Sette Sei Cinque Quattro Tre Due L'ultime Canto L'allungo Gamba Sinistra Braccio Destro Ok Gamba Su 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 Tieni forte L'addome L'addome Ancora Vai 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 Che sono gli ultimi Eh Sisti Otto Otto Sei Quattro Rimani su L'ultimo esercizio Fuori con la gamba destra Con il Gamba sinistra Braccio destro Questo vi faccio vedere dal davanti Ok Questo Vai Ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Giù Recupera Facciamo la destra E poi abbiamo finito Mezz'ora Precisa Sostata di parola Appoggia Destra fuori E andiamo Su Su Tieni forte l'addome Dentro la pancia Addominali belli contratti Respira Ancora Su Ne manca quattro Due Cambio Porta dietro Gamba destra Braccio sinistro Su 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 Sei Ancora dentro l'ombelico Lavora bene la zona in stabilizzazione Su 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 Ultimi Quattro Quattro Due Due Ultimo E giù Ok Oddio Stretching Ce l'abbiamo fatta Allora Ci siamo Un minusino di stretching E ci siamo Finito tutto Scusate Scusate eh Niente Niente Eccomi qua Ce l'ho fatta No No Perfetto Divarica Chiudi Prendi sulle gambe Scusate 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 Cambio Cambio di nuovo su Spiega Appoggio tutti i due piedi a terra La sinistra sopra la destra Tiro sulla destra E la prendo da qua E la tiro forte Verso il petto Ok Dovete sentir tirare La parte esterna della coscia sinistra E del gluteo sinistro Cambio l'altra parte La destra sopra Tiro la gamba sinistra Al petto Cambio Al petto Giro sul fianco Ok Si incrocia Tiro bene Pianco Verso destra Su Su è Su il petto Allungate bene anche il collo Cambio Cambio Laterale Se ce la fai Appoggi il gomito Altrimenti Appoggi la mano Più lontana che fuori Ok Non staccare Il fianco sinistro Cambio 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 Mi appoggio sulle ginocchia Ok Destra avanti Tiro bene verso l'altra Le braccia Su Giù le braccia Apri il braccio Destro Non staccare Non staccare Non staccare Un po' Now biologia Non staccare Staccare cambio, torna, trossolo prima le gambe, piano piano piego le gambe, trossolo la colonna, ok e ci siamo, ragazzi abbiamo finito, ci vediamo con me domani pomeriggio alle 5 e mezzo per un bel tabata, ok? un bel circuitone brusciagrassi e vi auguro buona giornata e ci vediamo domani pomeriggio, ciao a tutti!